Questo convegno di oggi è molto interessante, quelli che se ne vanno e quelli che rimangono, ma dobbiamo che restano. Dobbiamo dire che lei è autore anche di un libro che riguarda proprio quelli che se ne vanno. Sì, il mio libro che è edito dal mulino si chiama Quelli che se ne vanno, preciso che non è un titolo che ho scelto io, avrei scelto un titolo molto più burocratico, la nuova immigrazione italiana, ma ormai si usa a dare titoli più a effetto. Dunque, questo libro risponde all'esigenza di sottolineare con forza l'esistenza di un fenomeno assolutamente sottostimato, non preso in sufficiente considerazione. Questa è una delle partenze dal mezzogiorno e non solo, perché tra l'altro la seconda regione per numero e incidenza di emigranti è la Lombardia, quindi è un fenomeno completamente nuovo, ma riguarda anche le nostre regioni, anche perché il libro riguarda l'emigrazione all'estero, soprattutto, però se parliamo del mezzogiorno dobbiamo ricordare che c'è l'emigrazione all'estero e l'emigrazione interna. Infatti dal sud si parte per ambedue le destinazioni e poi sono caratteristiche diverse quelle di chi emigra al nord e chi emigra all'estero. Dunque, la prima domanda, noi abbiamo avuto un vescovo lungimirante, Monsignor Agostino, che già negli anni 90 parlava della fuga dei cervelli, una fuga dei cervelli che rende sempre più fragile la nostra società. Sì, questo è assolutamente vero, si disperdono forze intellettuali, però il mio libro, diciamo, prende questo in considerazione, ma come parte della più vasta nebulosa che costituisce l'emigrazione italiana, anzi, con forza, io dico che non bisogna dimenticare la fuga dei cervelli e delle braccia. I cervelli sono anche i ragazzi poco scolarizzati che partono, insomma. Dunque, sì, diciamo, c'è questo depauperamento di forze intellettuali dalle nostre regioni, però la tragedia generale è di tipo demografico, il fatto che partono tutti. Riprendo il discorso sulla questione della sottovalutazione di questo fenomeno. Ne parlano le famiglie, le mamme lo sanno, lo sanno le zie, lo sa fin anche la Conad, che ora quando in uno degli spot c'è una partenza alla vigente, e invece la letteratura scientifica su questo tema è assolutamente modesta, e l'attenzione dei politici, eppure assolutamente modesta. Quindi il libro ha voluto riempire anche questa lacuna.